Ancora rapine a mano armata, ancora malviventi senza scrupoli che da settimane tengono sotto scacco automobilisti e commercianti a Napoli e in provincia. Un'escalation di violenza che non accenna a fermarsi e che oramai vede reati compiersi a tutte le ore del giorno. L'ultima rapina è stata perpetrata ai danni di un bar nella zona dei paesi vesuviani. Un ragazzo incappucciato, pistola in mano, fa irruzione, minaccia i presenti e il titolare del negozio intimando di consegnargli l'incasso. Il proprietario prova a prendere tempo, si muove con lentezza dietro il bancone, forse anche per paura, ma il malvivente non si scompone, va dietro la cassa, raffa quello che può e si dilegua. Le immagini della rapina vengono registrate dal circuito di videosorveglianza, così come le immagini di un'altra tentata rapina avvenuta all'uscita del centro direzionale strada statale 162. Un furgone affianca una smart immediatamente scende un ragazzo incappucciato che tenta una rapina, ma la vittima riesce prontamente a fuggire sgommando. Il malvivente, con tutta calma, raccoglie alcuni oggetti caduti, forse addirittura l'arma con cui ha tentato la rapina, si tira sui pantaloni, rientra nel furgone guidato da un complice e svanisce, tutto sotto lo sguardo attonito degli automobilisti che erano fermi in coda.